Esattamente 100 giorni fa si insediava il governo della regione guidato da Nello Musumeci. 100 giorni in cui la coalizione di centrodestra è ripartita da quell'eredità lasciata dal governo Crocetta. 100 giorni durante i quali la Sicilia ha scoperto, anzi ha riscoperto, di essere in piena emergenza a rifiuti, poi anche in emergenza idrica. Secondo Musumeci però sono stati 100 giorni di cui andare fieri. 700 milioni di euro stanziati nei più svariati settori, dal piano della ristrutturazione degli ospedali e delle attrezzature all'ammodernamento di strade provinciali. Per Musumeci si arriverà presto al miliardo di euro, ma a tenere banco sono anche i nuovi assetti della giunta di governo. Dopo la nomina del nuovo assessore all'energia e rifiuti Alberto Piero Bon, indicato dall'UDC, fa discutere molto la posizione della Lega di Salvini che dopo il successo elettorale rivendica un posto anche in Sicilia. Per ora dobbiamo solo preoccuparci di dare un senso a questo governo. La Lega è nella coalizione naturalmente, è uno dei nostri più importanti alleati, ma il problema non ce lo siamo ancora posto. L'assessore regionale alla cultura Vittorio Sgarbi invece fa infuriare i cittadini siciliani indicandoli in maniera poi nemmeno tanto sottile, come dei fannulloni che pur di avere il reddito di cittadinanza sono stati disposti a votare i 5 stelle. Unica ragione, secondo Sgarbi, del successo pentastellato in Sicilia. Musumeci, imbarazzato dalle dichiarazioni di Sgarbi, replica non sono la sua badante.